cari videogiocatori cari videogiocatrici il sottoscritto si accinge a registrare la sedicesima puntata il sedicesimo video di dragon ball fighters subito dopo il quindicesimo il quindicesimo episodio perché perché voglio andare avanti sono curioso e vorrei sbrigarmi in tutta sincerità perché è un bel po che lo sto portando avanti dragon ball fighters e mi sembra il caso di proseguire anche verso nuovi lidi ok battaglia andrò di qua e poi tirerò sì va bene ci sono ci sono eccomi clone di tensione sarà la mia altezza noi restiamo sempre con 18 e 16 con il supporto di 17 ma proprio blando no no attenta attenta cari no 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 non è non andiamo bene così si è decisamente meglio ma è aggressivissimo senti messo me stufato allora oh ma proprio è un pugno normale lo stende no 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 è è troppo aggressivo provaci ok ok va bene va bene va bene va bene possiamo farcela resta solo freezer ho provato un assalto ma no 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 oh no 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 ok ok dai se non schia... 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 schia....schiata purtroppo no? sinceramente no! Provaci! Nooo l'avevo quasi preso! La avevo preso! Freezer, maledetto! Sparisci Bene Abbiamo distrutto il Tenkaichi Lo stadio Ah Un altro collegamento Ogni volta c'è un collegamento Ma sei schizofrenica No Trovando degli hobby magari Con uno spirito saldo Effettivamente ma Un tempo anche tu eri umana Vero? Forse non era Non era la risposta giusta Appena si chiude una porta Si apre un portone Che cosa facevi? Ok Va bene L'abbiamo placata E' tranquilla Si va ancora avanti Di aggiungere un personaggio Proprio non se ne parla Vabbè Andare di qua Due battaglie Gohan piccolo Siete i miei prossimi obiettivi Beh almeno qui E' uno scontro alla pari Due contro due Anche se C18 Non è proprio al massimo Attento Gohan è un avversario ostico Era pericoloso Quell'attacco Gohan Maledizione Oh resiste Il ragazzo Il figlio di Goku Ok Adesso potrei utilizzare Numero 16 Per eliminare Piccolo Provaci No E l'ha mancato Vabbè L'ho provato Andata male Pazienza Provaci Brava Va bene Va bene Va bene Un po' in difficoltà Adesso ci sarà Infatti Un nuovo Collegamento Ah Sta male Di nuovo Sta male E' morto Da un po' Il dottor gelo E' morto Beh sì Noi lo sappiamo Hai davvero bisogno Di davvero così bisogno Di saperlo Sei più simile a Cell Da un lato Ne ha creati tanti Anche nei film Anche lì spuntavano Gli androidi In uno dei film Di Dragon Ball Non mi ricordo Adesso il titolo Allora Il prossimo obiettivo Andare da Freeza Passiamo di qua Sono pronto Freeza Giniu E Nappa La banda di Freeza No 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 Numero 18 Per cortesia Cerca di concentrar Di concentrarvi Cerca di concentrarvi Bravo 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 Numero 16 E smettila di parare Porca miseria Oh Finalmente Mi trovo meglio Con Numero 18 In tutta onestà Però devo dire Che anche Numero 16 Sa il fatto suo Ok Va bene Ok Adesso mando Numero 16 Ci proviamo Con l'attacco speciale Un po' sprecato Contro Nappa Ci pensa prima lui Se ci riuscissi Ok Bye 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 Nappa Nella battaglia boss Ci sta L'attacco Kamikaze Di Numero 16 Un altro Un altro collegamento Non filmato Un altro collegamento Non filmato Ok Ok E' più produttiva Chi è? Chi è stato? Fatti vedere Cell Quello originale Che Cosa? Ah, il prima Sì, l'avevi riportato in vita Eri andata su una Mac Giusto? Nell'arco del guerriero nemico Cosa? Ma che cosa? Sì, non mi sembrava che non pensi così. Ma ora, non mi sembrava che non pensi così. Non mi sembrava che non pensi così. cos'è si è diventato più forte anche tu ah anche lui si è collegato un'anima non ce l'hai più? perché parli al passato prossimo obiettivo Cell tra l'altro loro numero 17 e 18 avrebbero un conto in sospeso con lui cos'è? ancora vuoi assorbire di nuovo? più numero 21 no non ti arrabbiare stai calma abbiamo fatto tanta fatica ci pensiamo noi no non ti arrabbiare no non ti arrabbiare non ti arrabbiare non ti arrabbiare si è trasformata si è trasformata sembra Majin Bu non mi stancherò mai di dirlo il suo sguardo è diverso i suoi occhi sono diversi chi vincerà mi piacerebbe combattere eh android numero 21 buona ecco questo è questo che vi dicevo mi piacerebbe combattere con lei inizio battaglia numero 31 subito direttamente così buona vedete tra parentesi buona perché infatti ha gli occhi diversi l'abbiamo avuta sempre come nemica adesso una selle fortissimo fortissimo è di un'aggressività allucinante adesso la richiamo voglio vedere che cosa sa fare ha degli attacchi buoni potenti cos'è quella barra? no lancia una super adesso si prova anch'io no 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 dai riproviamo ancora non ha funzionato e dai ma vuoi andare a terra maledetto finalmente volevo sconfiggerlo con lei è andata dura eh però ce l'abbiamo fatta si difendeva di continuo furia rinnovata numero 16 si prepara a morire sono stanchi tutti tutti in difficoltà ah però ha vinto ma numero 21 non è messa benissimo no non devi cedere no ah sì è l'unica vai è l'unica non ha funzionato me lo immaginavo un po' perché mi sa che è al punto di non ritorno lei però ho ancora gli occhi normali forse c'è ancora speranza chi è sto chi ah numero 16 ah numero 16 resisti eh non ce la può fare sta sacrificando la sua vita per lei non ce la può fare forse questo l'ha fatta rinsavire o peggiorare credo che è infatti no si si sono separate le due parti come majinbu l'hanno un po' troppo copiata eh la storia un po' troppo scopiazzata anche il personaggio tra l'altro soprattutto android numero 21 malvagia ok si è sdoppiata scommetto scommetto che maggior parte la maggior parte della forza è andata alla parte malvagia l'hanno un po' troppo Non è vero, non è vero. Sì, come immaginavo Ha da notare che anche i capelli sono Di un colore diverso Adesso l'ho notato La cosa che più Si nota Sono gli occhi in realtà Però anche i capelli No, si vuole mangiare Cell E ormai E ormai Beh, almeno l'ha scacciata la parte cattiva Una ciambella Mi ha fatto venire fame Anch'io tra un po' dovrò mangiare Quasi ora Eh, perché era forte Adesso è ancora più forte lei Cambiato colore Ah, come se avesse assorbito Cell Ha le macchie tipiche di Cell Sulla sua pelle Questa è la principale non credo che serva molto non credo la ignora avrebbe potuto eliminarli tutti invece un minuto di silenzio per numero 16 che ha sacrificato la sua vita per salvare numero 21 però si è stata liberata non credo che per forza anche perché se vogliamo fermarla però la scelta aspetta all'anima la batteremo a qualsiasi costa la scelta Sì, non è vero quello che si tratta, ma non è vero cosa che si tratta. Non lo so, non lo so. Sì, ringrazio con me! Scusate! 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 F Lieu Non c' bounds Scusate! Sous Rien DOT D� Siamo una squadra no? E noi li andremo a cercare questi benedetti laboratori Ah ha paura di qualcosa anche lei Qui tra l'altro Goku e company non si sono visti A parte Krillin Dai avviati verso il gran finale Android numero 16 è stato distrutto e non può più essere scelto nel menu modifica squadra L'evento di collegamento di android numero 18 è stato attivato Controlla Ok abbiamo perso un altro personaggio ma ne abbiamo acquisito Un altro Cioè abbiamo perso un personaggio non un altro L'unico personaggio Però abbiamo preso abbiamo sbloccato Numero 21 buona D'accordo Prossimo obiettivo andare di là Va bene mi fermo qui Questa è stata una puntata bella tosta Spero che vi sia piaciuta E nella prossima si andrà ancora avanti Forse verso la fine Chi lo sa Al prossimo video Ciao Ciao